Buongiorno, sono Barbara Marini, lavoro in Gilead Science Italia, sono responsabile del business Hepatitis, ma sono qui rappresentanza di due team, Hepatitis e HIV. Questo perché? Perché abbiamo due farmaci finalisti al Premio Galeno 2014, Sovaldi, che è uno dei farmaci più utilizzati al mondo nel trattamento delle infezioni croniche tra il virus C, e Strybild, che è il primo inibitore dell'integrasi disponibile in una sola compressa per il trattamento dell'HIV. Sovaldi e Strybild rappresentano due dei principali filori di ricerca di Gilead, che basa alla propria ricerca nel trovare soluzioni terapeutiche innovative per malattie gravi che mettono a rischio la vita dei pazienti. Entrambi i farmaci sono accubinati da una caratteristica che si chiama STR, che sta per Single Tablet Regimen. Infatti Sovaldi è già incorporato in una singola compressa con un altro agente per un Single Tablet Regimen, così come lo Strybild, l'obiettivo è di dare a pazienti affetti di malattie croniche una singola compressa per curare la patologia, sia essa epatite C o HIV.